Aumentano i contagi da coronavirus in Calabria. I dati ufficiali di ieri, lunedì 16 marzo, secondo i dati del report della Regione Calabria pubblicato alle 18.30, le persone risultate positive al Covid-19 sono 21 in più rispetto a ieri. Salgono dunque a 89 i contagiati nella Regione, 819 finora i tamponi effettuati, dove il numero più alto si registra nella provincia di Reggio Calabria, 32 di cui 9 ricoveri in reparto, 2 in rianimazione e 19 in isolamento domiciliare. Nel computo sono anche l'unica persona guarita e la persona che si sospetta finora deceduta per il virus. Tra i contagiati risulta anche il sindaco di Montebello Ionico, Ugo Suraci, che lo ha annunciato in un messaggio. Nel Cosentino i casi sono invece 23, di cui 15 in reparto e 3 in rianimazione, mentre le persone in isolamento sono 5. A Crotone i positivi al Covid sono 18, dei quali 5 ricoverati presso il San Giovanni di Dio di Crotone, 2 presso il Nosocomio Pugliese Ciaccio di Catanzaro e 11 in isolamento e sorveglianza attiva domiciliare. 13 quelli nel Catanzarese, 4 in isolamento, 7 ricoverati in reparto, ai quali si aggiunge un paziente ricoverato nel tardo pomeriggio di ieri, le cui condizioni sono al vaglio dei sanitari e 2 in rianimazione. Sono 4 infine i contagi nella provincia di Vibo Valenza e tutti si trovano in isolamento presso il proprio domicilio. Le persone in quarantena volontaria sono 4.583, il numero più alto si registra nel Regino con i suoi 2.231 casi, a Ruota segue il territorio Cosentino con i suoi 1.230 casi, la provincia di Vibo con 458 persone in quarantena, a Catanzaro sono 317 casi, mentre a Crotone sono 293. Le persone arrivate in Calabria negli ultimi 14 giorni che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono state 7.793.